Ciao, creatura, io sono Ecati Splendente e benvenuta, bentornata nel regno di Cosai, A.S.M.R. Ciao, come avrei letto dal titolo, questa sera facciamo il barattolo degli obiettivi, l'ho chiamato adesso così, devo ricordarmi questo nome per il titolo, che funziona, fa parte di quella cosa chiamata la legge di attrazione, quelle cose lì, funzionano, infatti vedi? Cosa è successo comunque a me? Allora, io ti invito a farlo anche tu, se vuoi farlo insieme a me o se vuoi farlo dopo questo video, ma fallo, creatura, fallo, fidati della tua idea Allora, tipo Art Attack, di cosa abbiamo bisogno? Beh, innanzitutto di una penna Io userò questa, tipo Bic, non so, non si chiama, onestamente l'ho presso dai cinesi, c'era un pacco con tante penne che poi pian piano al lavoro è un po' di 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 un po'. Ho finito, me ne restano tipo due Poi Un foglio di carta Il mio è a quadretti, ma va bene qualsiasi tipo di carta L'ho preso a quadretti perché è più bello che tutto bianco, dal mio punto di vista Io ho un block notice qui Un block Che è quasi finito Che ho quattro, anche se non ci servirà proprio così grande Sai secondo me anche cosa sarebbe bello? Utilizzare dei post-it colorati fluorescenti Perché poi li piegheremo E li metteremo all'interno di questo barattolo O di un barattolo Quindi secondo me tutti i colorati Devono un effetto ancora più cool Però non li ho Quindi utilizzo un semplice foglio di carta bianco Quadretti Blu Scherzavo sono grigi Come la mia t-shirt Sul quale c'è scritto Rebel Divertente Divertente Allora Cosa voglio fare? È tutto molto semplice Dobbiamo soltanto andare a scrivere i nostri obiettivi Ma non come la lista della spesa Cioè Non scrivere vorrei questo, vorrei quello No Io faccio questa cosa Come se fosse già successa Nel presente Come se fosse una cosa che abbiamo già Nel presente Ok Allora Per esempio Io lavoro Io lavoro a tempo indeterminato Io lavoro a tempo indeterminato Però sono anche dove? Perché ci sto lavorando adesso Ok creatura? L'ho già fatto quella della macchina Io ho una macchina Una macchina nera Una smart Ce l'ho già Davvero Ok E quello Non posso più mettere Perché E già Era già stato messo E quindi Allora Io lavoro Adesso andrò a scrivere questo Io lavoro A tempo indeterminato Presso Ulss 5 Polesana Ok Poi li andiamo tutti a ritagliare Li mettiamo lì dentro Piegati E poi tra Non so 8 mesi Andrò a fare un altro video Dove Li vado a pescare Li apro Li leggo E quelli che Sono già Sono stati completati Diciamo Li tolgo E invece E invece quelli che devono ancora Essere Completati Li rimetto dentro E magari Li vado ad aggiungere altri E attualmente Il mio brattolo è vuoto Perché Li ho già Quelli che avevo fatto Li ho già Completati tutti Quindi Adesso Bisogna insegnare di nuovi E lo volevo fare con te Così magari lo potevi fare anche tu A casa tua E dopo magari Il giorno che io faccio uscire il video Tu puoi fare anche tu Sistemare Leggerli E vedere quelli da togliere E quelli da aggiungere Ok Ok Poi Io abito Da sola Metterò la casa La via e tutto Metterò la casa La via e tutto Che però non ti leggo Giustamente Per questioni di privacy La mia Il mio obiettivo principale è questo E quindi lo scriverò Io sono indipendente Ok Che sono un po' gli obiettivi E l'obiettivo principale Di tutto il mio percorso Andiamo a cose più futili Queste sono le cose principali Andiamo alle cose più futili adesso Io ho un computer fighissimo Ho un computer fighissimo nuovo Fighissimo Che Mi permette di fare tutto quello Di cui ho bisogno E questo è il mio percorso e la mia community è, non so, vediamo quanto potremmo, ma anche a me non mi interessa tanto, perché volevo salire un po', ho superato, ecco, ho superato i 13.000 follower, perché sono ferma lì a 12.000 e voglio superare i 13.000, ok, ho superato i 13.000 follower su YouTube, che siamo festati fermi anche troppo. e faccio live divertenti e rilassanti sul canale Viola ho aperto il mio canale di mukbang, perché se non lo sai, creatura, questo è un mio progetto, volevo, voglio, voglio, aprire un canale solo per i mukbang e basta, solo per mukbang che non devono essere perfatti ASMR, cioè anche così easy, solo videocamera mangia, si parla, anche in compagnia, magari chi non vuole essere ripreso, non si fa riprendere, però si sente e basta, easy. sì, dai, basta così, perché non voglio neanche esagerare. sì, dai, basta così, perché non voglio neanche esagerare. sì, ok, faccio questi, queste cose qua. per adesso poi se me ne verranno altre le aggiungerò e poi le andremo a leggere nel video della della rivelazione di quando si vede se gli obiettivi sono stati completati o meno. ok, ok. ok, ok. ok, ok. ok, ok. ok, ok. Grazie. Grazie. Ricapitolando, io lavoro a tempo indeterminato per esso uso 5 po' le sana. Io sono indipendente. Io abito in... Ho aperto un canale di solo video mukbang. Faccio live divertenti e rilassanti sul canale Fiona. Ho superato i 13k follower su YouTube. E' un piccin'uovo fighissimo che mi permette di fare tutto quello di cui ho bisogno. Ecco qua. Uff. 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 grazie per aver visto questo video creatura spero che ti sia stato utile e fammi sapere se farai il barattolo se lo fai fai una foto e taggami su instagram così lo vedo e poi andremo a aprirlo insieme tra un po' non so neanche io quando mi sentirò che sarà il momento al forum io ti auguro buonanotte buon relax ciao creatura